Si è cominciati col condono, si è passato a un lavoratore in nero, si è passati a quattro lavoratori in nero, si è passati dal padre alla madre, si è passati alla discarica di inerti, veniva quasi la voglia di proporre un ordine del giorno a difesa della famiglia di Maio, cioè che a furia di andare avanti così non so quale sarà che andranno a scoprire la prossima volta, che ci saranno prosciutti avariati dentro all'abitazione della famiglia di Maio, non lo so, al di là della battuta che non è tanto una battuta, perché qua ci vedo da una parte un'oggettiva attenzione spasmodica per colpire Luigi Di Maio, questo sembra assolutamente evidente. Dall'altro però diciamo anche che forse è venuto il momento, io lo dico da sempre, che non abbiamo bisogno dei professori a chiacchiere dell'onestà onestà onestà, perché le colpe dei padri, delle madri, le colpe familiari non ricadono mai, però probabilmente poi insomma fare lezioni di morale quando attorno poi sei circondato di tutta una serie di cose che non vanno e quando ti fai promotore anche di una legge sul condono forse bisognerebbe avere un po' più di attenzione anche quando si ricoprono incarichi importanti e forse dire la verità fino in fondo, dirla prima che l'accertino i giornalisti sia meglio. Detto questo a me non piacciono mai le battaglie che puntano a colpire le persone attraverso la ricerca dello status genealogico-anagrafico fino al sesto grado di parentela, quindi io credo che la responsabilità penale è sicuramente personale, la morale è personale ma può essere anche familiare, in un paese soprattutto quando tu diventi il depositario dell'onestà e vinci, il depositario tra virgolette dell'onestà e vinci una campagna elettorale onestà onestà onestà, devi mettere nel conto che poi se ti vanno a fare un accertamento nel terreno di famiglie e trovano materiale di rifiuto e lo sequestrano, non ti devi pensare che questo non possa accadere, accade a tutti quelli che fanno politica e credo che alla fine la gente sa poi capire chi è onesto e chi non lo è, chi è credibile e non lo è, chi è coerente e non lo è, insomma staremo a vedere se Di Maio sarà un uomo onesto in politica dalle mani pulite, io credo che lui adesso personalmente non abbia fatto nulla e quindi va rispettato comunque come persona che sta cercando di fare politica anche cambiando e non può essere fermato certamente per qualche errore che hanno potuto fare i suoi familiari, però è anche bene fare un esercizio di chiarezza e non chiudersi necessariamente dietro al fatto di non voler raccontare fino in fondo la verità. La trasparenza è sempre l'esercizio migliore per chi fa politica. Grazie.